Massimo Pestrin, il cinquantenne ex guardia giurata che lo scorso 3 maggio a Paese uccise con 11 colpi di pistola il fratello Lino e la cognata Rosanna Trento, al momento del fatto era capace di intendere e volere, depositata la perizia psichiatrica. Non è sorpreso l'avvocato difensore Annalisa Zanin, anche se ovviamente sperava in un altro esito. Prima leggerò la perizia, commenta, poi concorderò i prossimi passi con il mio assistito. In questi mesi l'uomo rinchiuso in carcere a Sant'Avono continua a non capacitarsi di quanto ha commesso quel terribile giorno, ci dice legale. Lui che aveva preparato il pranzo al fratello Lino e alla cognata, poi in un attimo la tragedia. Armato di pistola è entrato in cucina e li ha affreddati senza lasciargli scampo. In carcere vanno a trovarlo sempre i figli, i nipoti e la sorella. Da racconto di tutti Massimo Pestrin non aveva un brutto rapporto con Lino, ci spiega l'avvocato, il movente è davvero difficile da capire. Il cinquantenne continua a ripetere che non ricorda molto di quello che è accaduto poco prima delle 13. Credo si sia trattato di un momento di blackout mentale dovuto al forte stress che stava vivendo. Ora dovrà rispondere dell'accusa di duplice omicidio.